è inutile che bussi siamo già tutti qui o almeno credo e io ho appena controllato ma il telefono non c'è magari l'ha messo nella zippa al piano di sopra ma si è qui come sempre che ansia e come ti agiti le piacciono le cose fashion ma non per questo rinuncia alla comodità e agli spazi ben organizzati eh sì nel signorino so tutto io se non fosse stato per la sicurezza della chiusura volavi fuori sul sedere del passeggero in macchina e tanti saluti oh ma cosa succede ecco finalmente si esce sì ecco dovrei proprio avere tutto meno male che da quando ho scoperto questa love moschino non mi viene mai voglia di cambiare borsa altrimenti sarei proprio persa